Nuovo! Get ready with me! In questi giorni sto facendo un sacco di get ready with me, ma credo che sia anche appunto il periodo si avvicina a Natale e in questo periodo iniziano a esserci vari parti, le varie cose insomma sia per il lavoro di Brian che insomma con le mie amiche, quindi quindi ho deciso di fare get ready with me per farvi vedere come ho realizzato questo trucco e dopo il tutorial vi faccio vedere anche cosa indosserò, insomma niente di... però niente, quindi spero che vi piaccia e vediamo cosa ho combinato. Per la base ho usato il correttore di Amazing Cosmetics, il fondotinta di Covergirl e la cipria Peach Perfect di Too Faced. Il primo colore che ho usato sulla palpebra mobile è l'ombretto cremoso Revlon Colorstay, il numero 740. Il colore è un lilla chiaro shimmer. Moni, nome particolare, ho preso il rosso marrone opaco e sono andata ad applicarlo nella piega dell'occhio. Dalla stessa palette ho preso il colore avorio opaco e l'ho applicato sull'arcata sopraccigliare. Per questo trucco ho usato il nuovo eyeliner di Nabla, si chiama Cruel Jewel. Sulla rima inferiore ho steso il Kajal di Deborah e l'ho applicato anche sulla rima interna. Sopra la matita ho applicato un po' del rosso marrone che ho steso nella piega dell'occhio. Il mascara è Better Than Sex di Too Faced. Per riempire le sopracciglia ho usato il kit How To Make Brows Wow di Essence. Le cia finte sono di Tarte. Il fard rosa pesca è di The Balm e si chiama Fret Boy. Come illuminante stick ho usato Star Struck di Fenty Beauty, la linea di Rihanna. Ed infine sulle labbra questo è il rossetto liquido di Wet n Wild e si chiama Coral Corruption. E questo è il risultato finale! Quindi spero che vi sia piaciuto e adesso vi faccio vedere cosa indosserò questa sera. questo è il vestito ecco finalmente a fuoco queste sono le scarpe sono nere ma hanno dei glitter rossi e un pizzico di viola pure. comunque perfette per il periodo eccole qui quindi si pronta per andare a mangiare. Spero che vi piaccia, un bacio, ciao!